Dopo il grande successo di The Wrestler, Darren Aronofsky torna alla regia con un film intenso e controverso. Una Natalie Portman d'Oscar incarna il tema del doppio, scontrandosi con l'animale Mila Cummins. Ottenuto il ruolo di prima ballerina dell'opera di New York, la giovanina deve vedersela con i fantasmi del cigno nero. È in lei che vuole scacciare la sua innocenza e la sua adolescenza. La musica melanconica e coinvolgente di Tchaikovsky fa da sfondo ad un film morboso, avvincente e inquietante. Candidato a 5 premi Oscar, Black Swan cavalca la classifica americana da mesi e si è giudicato numerosi premi. Un film da non perdere, un'interpretazione eccezionale.